Il sacramento della confermazione, la Cresima, ci unisce più saldamente a Cristo e alla Chiesa e con la forza dello Spirito Santo ci aiuta a diffondere e difendere la fede per confessare il nome di Cristo e per non vergognarci mai della sua croce. Per questo è importante avere cura che i ragazzi ricevano la Cresima e non restino metà del cammino. Lo ha ricordato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale di questa mattina tenuta in piazza San Pietro, proseguendo la riflessione sui sacramenti. La parola Cresima, che significa unzione, ci dice che attraverso l'olio e il sacro crisma veniamo conformati nella potenza dello Spirito a Gesù Cristo, il quale è l'unico vero unto. Il termine confermazione, ha spiegato ancora Papa Francesco, ci ricorda poi che questo sacramento è una crescita della grazia battesimale. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, ha concluso il Papa, Cristo stesso prende forma nella nostra vita. Attraverso di noi sarà Lui a pregare, a perdonare, a infondere speranza, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Nel salutare i pellegrini italiani, Papa Francesco ha lodato l'opera delle fondazioni associate alla Consulta Nazionale Antiusura, augurandosi che le istituzioni possano intensificare il loro impegno a fianco delle vittime dell'usura, perché, ha aggiunto, quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, quello non è cristiano, non è umano.